Manovra iniqua che colpisce i lavoratori dipendenti e pensionati, questo è il giudizio unanime dei sindacati sul decreto Salva Italia presentato dal governo tecnico di Mario Monti. Dure le critiche, in tal senso anche dalle sigle metalmeccaniche della provincia teatina. Marco Di Rocco, Fiume CGL, parliamo di lavori usuranti. Ma sì, perché i lavoratori continuano ad essere quelli più colpiti che stanno pagando questa crisi e purtroppo anche questo governo, cioè il governo delle banche europee, sta tartassando i lavoratori. Come fa un metalmeccanico a stare 42 anni in fabbrica? Questa è la domanda che si dovrebbero fare. Non si accompagna questa manovra con una vera riforma del lavoro usurante perché 42 anni di catena di montaggio o di qualsiasi altro lavoro è un lavoro, diciamo, duro che non porterà purtroppo nessuno ad andare in pensione. Quindi continuiamo la lotta, questa volta non da soli, ma lunedì 8 ore di sciopero in tutta la provincia di Chieti. Sulla stessa linea anche la Wilm, il segretario provinciale Nicola Manzi punta il dito contro la politica e incapace, dice, di risolvere i problemi. Quindi lunedì prossimo lo sciopero di tre ore per Wilm e Fiume. I lavoratori dipendenti da parte loro hanno purtroppo la sfortuna di pagare le tasse, di pagare non solo i mutui, ma adesso anche il barzello del lici che viene reinserita per la prima casa. E, dulcis in fondo, se andiamo a vedere quello che è accaduto stamattina, ci troviamo con una benzina rincarata e chi paga sono sempre i soliti noti. Fermo restando che non dobbiamo dimenticare chi ha la ricchezza di questo Paese. Un 10% delle famiglie che sono i ricchi di questo Paese non sono stati toccati. Inoltre, la grande politica, quella che ha dato mandato a un governo tecnico, togliendosi tutte le responsabilità delle mani, ha dato mandato a un governo tecnico per tagliare e aumentare le tasse, questo governo oggi si trova a fare l'ascia per conto di una politica che non è stata né penalizzata perché i costi ci sono, la politica ha un prezzo, non abbiamo visto i tagli dei costi della politica se non rinvigli per il prossimo futuro. Non è più concepibile che in un Paese democratico come il nostro c'è chi paga e chi non paga, a cominciare anche dai famosi evasori fiscali. Grazie a tutti.